Appuntamento con la storia questa sera a Castellabate presso la cattedrale con il convegno la figura di San Costabile Gentilcore IV Abate e la cultura benedettina nella terra di Castellabate del Cilento. Parteciperanno Don Michele Petruzzelli, abate dell'abbazia di Cava dei Tirreni e Don Riccardo Luca Guariglia, abate dell'abbazia di Montevergine. Si discuterà sull'influenza del monaco che ha avuto nel Cilento partendo dalle sue origini cilentane. Costabile ancora adolescente entrò nel convento benedettino della Santissima Trinità di Cava e la sua educazione e formazione spirituale fu affidata a San Leone da Lucca, considerato il secondo abate di Cava dei Tirreni. Dal gennaio del 1119 con il titolo di Abbas Costitutus affiancò nella guida dell'abbazia di Cava, San Pietro Pappacarbone, nato da nobile famiglia Longobarda di Salerno, che nell'ottobre del 1122 gli consegnò il pastorale nominandolo suo successore. Il governo abbaziale fu breve per Costabile che non poté fare molte cose, ma con l'autorizzazione del duca da Puglia, Guglielmo II d'Altavilla, il 10 ottobre 1123 diede inizio nel Cilento alla costruzione del Castello dell'Angelo, detto Castrum Abbatis, poi Castellabate, per la difesa delle popolazioni locali da quelle dei saraceni africani, che nel 1113 avevano devastato e depredato il territorio cilentano dopo la sua morte avvenuta il 17 febbraio del 1124 a soli 53 anni. I lavori di fortificazione furono continuati dal suo successore, il beato Benedettino Simeone, costabile durante il suo breve periodo abbaziale di carattere mite ed umile, preferì guidare i suoi monaci con l'esempio e la dolcezza, tanto che gli fu attribuito l'affettuoso titolo di Operimentum Fratrum, e quando morì era già oggetto di culto popolare sulla base dei miracoli che gli furono attribuiti.